Questo video riguarda i migliori tre forbicine per unghie e cuticole. Il vincitore della qualità è il Gold Milky Forbici per cuticole. La pinza ha una punta in acciaio inossidabile e lame affilate che rendono i tagli puliti senza tirare o tirare. Lo spintore per cuticole a doppio taglio può essere utilizzato per spingere e modificare le cuticole come desiderato. La lama affilata rende la pinza delle cuticole efficace per la pelle morta e dura, per il taglio preciso delle cuticole. Manicure russa manicure manicure fai da te, per favore non tagliare le unghie. Solo per la pelle morta intorno a cuticole e unghie. Se non sai come usarlo, ti prego di contattarmi, posso darti alcune foto su queste forbici per cuticole per aiutarti ad usarlo. La vostra soddisfazione è la nostra priorità. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Victorinox forbici per unghie. Forbici per cuticole a punta ricurva in acciaio inossidabile. Le forbici per unghie ideali per la cura delle tue unghie. Con punta ricurva che garantisce maggiore precisione. Grazie alla collaborazione con l'azienda Rubis vantiamo da anni un partner affidabile al nostro fianco e possiamo offrire una gamma di strumenti preziosi di alta qualità. Inossidabile, classico, prodotto in Svizzera. Dimensioni altezza 4 mm, lunghezza 92 mm, peso 15 g. Il vincitore del premio è l'Uract forbici per unghie. Il design della lama curva migliora la visibilità e la precisione mantenendo le mani in una posizione comoda. Le forbici per cuticole ultrasottili hanno una lama curva, particolarmente affilata, che può tagliare le unghie in modo preciso e pulito. Le nostre forbici per pelle morta hanno teste rotonde finemente macinate, che possono tagliare in sicurezza la pelle morta intorno alle unghie. Molto adatto per riparare la pelle morta pedicure e manicure peli del viso, un eccellente strumento per il trucco quotidiano per le donne. Non solo può rimuovere la pelle morta, unghie e barbe, ma anche un buon sopracciglio e ciglia finte forbici. Le forbici per cuticole ultrafini sono realizzate in acciaio inossidabile 420 g quadrati di alta qualità, affilate e non facili da arrugginire. Avrà lo strumento perfetto per pulire e rimuovere lo strato corneo in eccesso. Le forbici hanno una superficie di taglio ultrasottile. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.